partiti, partenza sorpresa, forse qualcuno non era allineato ma sono partiti lo stesso ed è il cavallo di Borgo Nuovo che è nettamente in testa, abbiamo visto nelle prime posizioni anche Santa Andrea che sta incalzando il cavallo di Borgo Nuovo, lo vediamo, è nettamente in testa Borgo Nuovo, Fabrizio Ungheria sta pilotando in maniera magistrale Maradona ed eccolo Maradona che lo vediamo uscire dalla curva, il suo vantaggio è abbastanza netto nei rispetti di Santa Andrea e della Bernarda che sono i primi inseguitori, eccolo qui Borgo Nuovo in prima posizione, Santa Andrea in seconda posizione, la Bernarda, quindi vediamo Samo, ecco che Borgo Nuovo ormai affronta il rettilineo opposto a quello d'arrivo, si presenta all'ultima curva con un netto vantaggio, Borgo Nuovo ha approfittato di una partenza felice oppure infelice per gli altri, eccolo Borgo Nuovo all'ultima curva, il suo vantaggio è nettissimo, si stacca nettamente Borgo Nuovo ed è Borgo Nuovo che vince il Palio 1986.